Sono tifosi turchi, appassionati di calcio, mi dispiace tanto per questo. Sono stati due partite diverse tra primo e secondo tempo. Primo tempo, sinceramente, credo che abbiamo espresso un buon gioco, con degli errori, soprattutto il disimpegno che ha permesso il gol per l'Austria. Sicuramente per quanto creato anche in questa partita, un gol nel primo tempo era poco, perché abbiamo avuto molto di più, una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente. Il secondo tempo, sicuramente ci siamo disuniti, ci siamo allungati, non abbiamo giocato più la squadra dopo il loro gol. Questo mi dispiace molto e mi dispiace molto per questo. Mi dispiace di questo risultato lungo, avevo bisogno di fare delle prove. Ho avuto risposte che cercavo. E ora continueremo a guardare partite per creare il gruppo definitivo per gli europei. Bugünden itibaren da, tutti i matchi saranno ancora iniziando e lavoreremo iniziare iniziando. E questo è il gruppo più facile, ovviamente. Se guardo un po' la costante, anche negli ultimi anni sicuramente dobbiamo imparare a gestire, come nazionale intendo, come gruppo intero, a gestire anche gli elogi, no? Quindi il mio compito sarà quello di equilibrare sia quando, come oggi, che probabilmente abbiamo toccato un livello molto basso, sia quando abbiamo vinto in Germania o quando abbiamo vinto in Croazia, avere un equilibrio che è quello che ci permetterà poi di fare un grande europeo. C'è anche in passato, si vince con la Francia, si perde con l'Islanda, si vince con l'Olanda e si perde con l'Olanda, come con un'altra squadra più piccola. E questo è una cosa che mi ha fatto di fare, quindi è una cosa che già succesa, fortunatamente noi adesso su picciamo nella Mica e voglio, quindi per me sarà più facile poterci lavorare su questo aspetto. Inizia a francesa, a francesa o a hollandia e a francesa, a francesa o a francesa, ma inizia a francesa il momento, questo ciò che avremmo avuto. Abbiamo dovuto uscire meglio, abbiamo dovuto uscire meglio. Quando questo non lo permetteva di giocare davanti. Abbiamo avuto il primo gol, abbiamo fatto anche per il primo gol. un'analisi lucida io penso di nonostante la sconfitta di averla a me il primo tempo è piaciuto moltissimo considerando tutto una squadra non aveva mai giocato insieme tanti ragazzi non avevano l'intensità della partita perché giocano poco ragazzi giovani contro un avversario forte che ha giocato alla pari e serie più concreto sicuramente avevi fatto vedere qualcosina in più yani baktığınızda ilk kereda oynadığımız futbol çok da fena bir futbol değildi ve şunu da eklememiz lazım bütün detayları da unutmamak lazım yani sürekli beraber oynayan bir takım değildi ilk kereda sürdüğümüz saya baktığınızda kendi kulüplerinde de çok az süre alan futbolcular da vardı genç futbolcular da vardı ve bu ritimde belki de alışık olmayan futbolcular da vardı bunu da hesaba katmak lazım di questo ero contento il primo tempo perché c'era coraggio c'era volontà ilk kereda da neden memnundum e che deve avere anche la squadra e chi sta torna la squadra yani aslında baktığınızda bu ağır maalibiyetten sonraki dengeleri benim tarafımdan gelmesi gerekiyor biraz daha böyle dengeli olmamız gerektiğine hani futbolcularımıza zaten aktaracağız baktığınızda Almanya galibiyetinden sonra da hani biraz daha dengeli kalmamız gerektiğine kalmamız gereken anlar vardı ama bunu tabii ki de bu maçta yaşamamız çok daha verimli olacak bizim için çünkü çok fazla da pozisyona girdiğimiz bir maç e poi c'è il secondo tempo che abbiamo preso un bello schiaffo anzi più di uno che credo e sono convinto che se siamo intelligenti e riconosciamo gli errori anche internamente alla squadra intendo io con la squadra sono convinto che questo sia ci possa essere sconfitta più salutare per lavorare al meglio e guardare al futuro con fiducia ve ben oynadığımız iki yarı itibariyle hani o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim çünkü ikinci yarıda baktığınızda belki ağır tokatlar taviri caizse yemiş olabiliriz ama bu anlar itibariyle de hem kendi içsel problemlerimizi de hani çözmemiz gerekiyor hem de o dengeyi getirmemiz gerekiyor gelişimi gösterebilmek için böyle bir ağır mağlubiyetten sonra ma riguardo la prima domanda mi piace quando c'è un giocatore in più più il portiere devi costruire sennò non bisogna giocare a calcio bisogna fare un altro lavoro şöyle söylemek lazım ilk soruya göre cevap vermem gerekirse o dönemde eğer rakamsal üstünüm varsa o pozisyonda o bölgede oyun kurmak zorunda se giocare negli ultimi 30 metri 6 calciatori contro 5 avversari in più ducia il portiere 7 contro 5 in 30 metri e non hai coraggio di giocare bisogna mi piace così son 30 metrede eğer sen 7 kişi varsa senden ve rakipten 5 kişi varsa oyun kurmak zorundasın bu benim düşüncem ve burada oynayamıyorsan o oyunu kuramıyorsan da başka bir spor yapmamız gerekiyor eğer rakamsal üstünüm varsa yapamıyorsan perché questo perché questo ti porta una convinzione mentale è una forza mentale che quando si automatizzano come in parte succesi durante la partita ti da una convinzione ti da dei vantaggi altrimenti non avresti stavamo in difficoltà andesorlande musbihan deve gesare texikli yaşandorda rispetto alla seconda alla seconda domanda credo che non sia una novità creare problemi in generale esterno alla nostra al nostro mondo io sono abituato da 30 anni da tutte le parti e così se non avessi la forza e la lucidità e l'equilibrio per gestire sempre no quello che succede fuori da questo ambiente intendo dall'esterno non potrei fare questo lavoro non sarai arrivati a certi livelli e vale così anche per i gattatori yani bu sadece benim için değil futbolcularımız için de geçerli ikinci soruya gelmek gerekirse baktığınızda 30 yıldır ben bu işin içindeyim ve 30 yılda her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum bunlar çok normal şeyler o yüzden burada zihinsel gücüm zihinsel dengem olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu çünkü benim bazı seviyelere ulaştığımı da kendim de biliyorum ama bunu neden kendi zihinsel gücümle ve zihinsel dengemle yaptım yani bu futbolcuları için de geçerli la vita è così è tutto una lot per regare avvertici avvertici bisogna avere forza mentale superare difficoltà le delusione le ingiustizie nel percorso vale nella vita vale nello sport quindi vale per tutti sempre e la differenza tra poi le persone sta tutta lì bunu söylerken hayatta çok benzer bir konumda her zaman güçlü olmanız gerekiyor mücadele vermeniz gerekiyor ve zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor yani hayatta böyle şeyler tabii ki de yaşanıyor ama bahsettiğim şey her zaman güçlük alabilmek ve onun üzerine koya koya devam edebilmek un sorda doniziar guarda gli arbitri all'arbitri non lo riviste mi sono sembrato in situazioni che poi mi rivedo con calma fortunatamente erano amichevoli già la seconda partita che qualche dubbio ce l'ho yani baktığınızda maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bir daha net bakma fırsatım olacak ama iki maçları da bazı kararlar arada bıraktı bize açıkçası sinceramente la seconda domanda non te rispondo perché credo che sia una provocazione yani ilk sorunuza da cevap vermeyeceğim çünkü provocazione olduğunu düşünüyorum così come credo che quando sbagli una domanda non ti dimettite yani ben de şunu düşünüyorum siz mesela soru sorarken hata yaptığınızda siz işi bırakıyor musunuz o si non ti dimetti dopo aver fatto la domanda perché parlato di 30 anni di esperienza dice che non 2 1 3 1 6 1 dice con tuto rispondo anche io ti rispetto molto rispetto la domanda però non credo che sia una provocazione inutile non ti rispondo ama gereksiz bir provocazione olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim 9 10 10 14